Ragazzi, oggi, dopo un po' di tempo, vi farò vedere i regali che mi sono arrivati per la crescita. Il primo è questo, maglia di Illys, date con due a bella. Illys, un giocatore che mi piace molto, e come seconda regalo, la maglia originale che ho utilizzato lui in gara. Illys è un giocatore della crema, ovvero guagliato. Che bella che è, è gigante. E niente ragazzi, voglio dirvi ciao se non sto facendo video in questo momento, un po' per la scuola, per il calcio e le cose varie, per i compiti. E niente ragazzi, ciao!